Federica Brignone diventa la prima sciatrice italiana a conquistare la Coppa del Mondo di sci alpino. Mi sarebbe piaciuto esultare, festeggiare degnamente questa grandissima vitale con questo grandissimo risultato sportivo, avrei esultato veramente come un pazzo in altre situazioni, ma ovviamente con appunto questa situazione di pandemia, perché è stata dichiarata pandemia proprio un'oretta fa dall'OMS, questa pandemia di coronavirus, covid-19, insomma non sono veramente nelle condizioni adatte per risultare, per questo veramente risultato incredibile conseguito da Federica Brignone. Buonasera a tutti amici passati di sport e ben ritrovati su Moellerino Sporciani di San Alessandro e sono qui per parlarvi della Coppa del Mondo di sci alpino. La vittoria va appunto a Federica Brignone, che diventa la prima donna in assoluto a conquistare la Coppa del Mondo overall, conquista anche la Coppa del Mondo di gigante e la Coppa del Mondo di combinata alpina. Veramente un risultato incredibile, il quarto atleta, il quarto sciatore, considerando anche gli uomini dopo Tony, Tomba e Gross, a conquistare la sfera di cristallo, questo veramente trofeo ambito da tutti gli sciatori, che innalza proprio nell'Olimpo di questo sport e di questa disciplina. E come è arrivata questa vittoria? È arrivata dopo l'annullamento da prima delle finali di Cortina, già annunciato settimana scorsa. E quest'oggi è arrivata anche l'ufficialità che le gare che sarebbero dovute iniziare domani a Ore, in Svezia, sono state annullate per la presenza di un caso di coronavirus tra gli addetti appunto alla Coppa del Mondo. Non si sa se sciatori o staff, organizzatori, insomma, qualcuno coinvolto nell'organizzazione o nello svolgimento della tappa di Ore di Coppa del Mondo è risultato positivo al coronavirus e dunque la tappa è stata cancellata. È una vittoria che comunque è strameritata da Federica Brignone con le sue cinque vittorie conseguite a Courchevel e Sestrière in Gigante, in combinata Daltenmark e a Kransmontana e in Supergigante a Sochi. Ma c'è da dire che questa stagione è stata comunque influenzata tantissimo anche da agenti esterni che ovviamente non tolgono il merito a Federica Brignone ma diciamo che non sono assolutamente da trascurare. La morte appunto di Jeff, il padre di Michaela Schifrin a cui la campionessa, la cannibale statunitense era altamente legata che l'ha tenuta lontana da legare tantissimo e poi gli allunnalmenti da prima della tappa di Osvenschbach in Germania per mancanza di neve e poi delle finali di Cortina e appunto della tappa di Ore per il coronavirus. Dunque tante appunto tante situazioni esterne che hanno un po' favorito ovviamente la nostra Federica Brignone che comunque ha fatto veramente una stagione spettacolare facendo il record assoluto per un atleta sia uomo che donna italiano nella Coppa del Mondo di Scialpino quindi ovviamente è stata veramente una stagione strepitosa quella di Federica Brignone e dunque speriamo che l'anno prossimo Federica Brignone possa farci vedere ancora ancora di più che questa Coppa del Mondo se l'ha veramente meritata e sperando appunto di essere finalmente in una situazione migliore, una situazione appunto in cui questa epidemia è stata sconfitta definitivamente. Comunque ragazzi dire che per questo video è tutto, vi invito a lasciare un commento, vi faccio iscrivervi, seguoci anche sulla nostra pagina. E noi ci vediamo al prossimo video!